Tu cambierai pure qualche cosa senza farlo più forte, ma più acuto, più urgente. O si fa giacchetta, terra, rara, rio, si abbandona un po' da lì, un'altra dimensione. Si vado avanti, un'altra dimensione, si vado niente, si vado fuori, si vado dentro. Tre dimensioni dell'espressione. Il fraseggio, per esempio, è una fase piano, cioè delle differenziazioni in se stesso. Che si possono fare soltanto con il germe piccolo. Piccolo sì, ma non piccolo lì, piccolo qui, piccolo qui, piccolo qui, piccolo qui. Tre dimensioni ci sono. Allora quando vedi questi che fanno così, come l'altro giorno, dove abbiamo visto questo? Ah, Mainz. C'è un coro, sono tutti amici di un professore Gauss. E questi facevano la cosa di Schütz, semplice. Io credo ti va... E questo faccio così. Ti ti ram, ti ram, ti ram. E questi movimenti da Bayadera non hanno nessuna corrispondenza nel cuore. Allora perché voi non cantate come dirige lui? Non cantate. Ancora una volta, faccio io. E adesso? E adesso? Allora facciamo quello, faccio. Quello ferito a morte, però non volevo più parlare. E vedo che c'è la... C'è la... C'è la migliore punizione, quando on suit le chef. C'è la migliore punizione, quando on suit le orchestre non sono così buone per suonare così male come dirige il direttore. Perché? Realizzare il male, essere fedele a quel gesto e imbecilo non è più possibile. Non hanno idea di che cosa devono esprimere. Forse si è anche persa la razza, se c'era una razza che poteva comunicare. No, ma sì, questo è conoscimento. Che vero, questo vi piace. Sì, questo è conoscimento, sarebbe rinfrescato. Tutti quanti ci riproviamo. Sì.